Himalaia, 4200 metri. Sembra di stare un pochettino a casa del nonno 30 anni fa, però da lui c'era il bagno e dovevamo buttare l'acqua col secchio tirato dal pozzo. Qui non c'è neanche il bagno, faccio cacca davanti a un nack, la femmina del yak, e posso dire che dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori.